Io sono un appassionato di 500, o forse ero un appassionato di 500. La prima macchina che ho comprato era nel 1969 ed era appunto una 500. Era targata 81.81889, pensa un po'. Da allora poi ne ho comprato altre 16, cambiavo sempre 500, più o meno elaborate. L'ultima che ho adesso invece la devo ancora sistemare per bene, farla più bella e poi magari farci la passeggiata. Questa giornata sono venuta perché conosco tutti gli amici appassionati di macchine. Io per prima di vista non è uscito una 600 che invece volevo portare. Però condivido la passione per le auto, la condivido, la apprezzo e la sostengo per quello che possa. La passione nasce fin da giovani, dall'università, per cui ho sempre seguito le macchine antiche. Poi questa in particolare, la 500L, è una cosa particolare perché è quella di mia madre, per cui in famiglia da sempre, praticamente uniproprietario come si può dire, dal 1972 è sempre stata con noi. Quindi qualche anno fa è stata restaurata tutta, rimessa in piedi e ora utilizzata per i raduni, come quello di oggi che a Castellammare per i 500 anni era appropriata da 500 e quindi mi sembrava opportuno portarla.